ciao ragazzi benvenuti nel mio canale oggi questo video dei prodotti finiti prodotti finiti però detersivi detersivi io vado forte con i detersivi ragazzi il make up no non li finisco il make up crema per il corpo non li finisco vado di detersivi prima però ricordatevi una cosa campanella notifica se non l'avete ancora attivata iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti un like se vi è piaciuto e andiamo a vedere questi detersivi ma prima sigla ok ci siamo andiamo a vedere chant eclair lavatrice marsiglia al marsiglia questo e al muschio bianco li ho finiti tutti e due devo dire che sono veramente ottimi non so se voi li avete già provati ma sono veramente molto ottimi molto buoni e lasciano la biancheria morbida e questo è uno quindi 10 come voto ajax ragazzi questo allora vi volevo parlare di proprio questo prodotto l'ajax giardino in fiore è difficile trovarlo perché ai supermercati arriva in scatoloni praticamente magari c'è tra di un tipo 3 di un altro 3 di un altro e quindi questi magari in uno scatoloni c'è un 3 se arrivi prima che lo prendi bene altrimenti non lo trovi più perché poi ci sono gli altri se non finiscono gli altri non li mettono questo questo è veramente veramente buono per quello ci sono giardino in fiore ricordatelo provatelo vi lascio una casa profilatissima è per lavare il vento veramente molto molto buono un voto a questo 20 20 poi anche questo ragazzi le norme io mi trovo benissimo lascia la biancheria morbida la lascia molto profumata profuma depurito ed è veramente eccezionale 10 anche questo gel bagno smac ottimo 10 10 poi nelson per piatti anche questo l'ho trovato buono notto questo notto comunque è molto molto buono al limone nelson al limone grasso più incostrativo e costa incrostazioni incrostazioni e sforzo bruciato doppio potere in effetti funzionale basta per il momento dei detersivi sto meso lavato i detersivi sono finiti vi aspetto al prossimo video anche dei detersivi prossimamente vi faccio subito intanto vi abbraccio forte 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 vi mando un grosso bacio un ciao e al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.